Musica Aveva rapinato un ragazzo a Bibiene per questo era finito agli arresti domiciliari, ma nemmeno 24 ore dopo gli agenti della squadra volanti di Arezzo lo hanno sorpreso mentre stava passeggiando nel quartiere di Saione. Così per un 21enne marocchino sono nuovamente scattate le manette, questa volta con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. È successo ieri pomeriggio in via Trasimeno. I poliziotti nel corso di un normale servizio di controllo del territorio sono stati infatti insospettiti da un uomo che alla loro vista aveva tentato di darsi precipitosamente alla fuga. Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a bloccarlo e gli hanno chiesto le generalità per un controllo nelle banche dati, ma il 21enne ha fornito loro un falso nome. A quel punto gli operatori, avendolo già riconosciuto come soggetto noto con numerosi precedenti, lo hanno invitato a recarsi in questura per un'esatta identificazione. Il sospetto degli agenti ha così trovato riscontro. L'uomo era stato infatti arrestato il giorno prima dai carabinieri per una rapina bibbiena ai danni di un ragazzo ed era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il 21enne è stato così trasferito nel carcere a Rettino di San Benedetto in attesa di processo.